Musica Un nuovo sequestro di cocaina è stato operato dai cinofori della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia presso il porto Isola Bianca, questa volta allo sbarco della nave proveniente da Genova A finire in arresto un 55enne originario della Puglia ma residente a Milano da diversi anni già con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti L'uomo alla vista delle fiamme gialle, dipendenti dal comando provinciale di Sassari ha cercato di defilarsi al controllo, poi una volta fermato in evidente stato di nervosismo ha insospettito i finanzieri con risposte contraddittorie alle domande poste portando i militari alla perquisizione dell'auto In un doppio fondo, ricavato tra il vano portabagagli e lo schienale del sedile posteriore erano stati nascosti due pacchi di cocaina purissima, ben sigillati sotto vuoto coperti da caffè in polvere ed immessi in un barattolo di vernice accorgimenti che non sono bastati a confondere l'infallibile fiuto dei cani antidroga Ober e DAF L'operazione ha consentito complessivamente di sequestrare un chilogrammo di cocaina che una volta tagliata ed immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 300.000 euro e un'ingente somma di denaro contante ritenuto a frutto dell'attività illecita del trafficante L'uomo è stato tradotto presso il carcere di Nukis a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tempio Pausania Un prezioso esemplare di Pinanobilis, meglio noto come Nacchera stava lasciando la Sardegna come souvenir tra i bagagli di un turista francese che tentava di imbarcarsi sulla motonave Megandrea in partenza ieri sera alle 22 dalla banchina Segni Dogana diretta verso Ottolone Al momento dei controlli di sicurezza il personale addetto ha scoperto il prezioso mollusco e immediatamente ha lanciato l'allarme alla sala operativa della Capitaneria di Porto che ha inviato una pattuglia per sequestrare la conchiglia e accompagnare il turista in caserma per gli atti di polizia previsti in questi casi e di pochi giorni fa la pubblicazione su ebay della vendita di una copia di Pinanobilis come Very Old Collection Italy a 295 euro La Pinanobilis per le sue dimensioni eccezionali e per l'importanza che riveste nell'ambito dell'ecosistema marino è una specie protetta dalla normativa nazionale e internazionale e la sua raccolta o detenzione è punita con sanzioni di carattere penale il turista francese è stato infatti denunciato a piede libero alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari dei primi accertamenti eseguiti ai militari della Guardia Costiera la Nacchera sequestrata è stata raccolta nelle acque antistanti la spiaggia Mugoni sul litorale di Alghero l'esemplare purtroppo è risultato danneggiato e privo del mollusco interno motivo per il quale non è stato possibile il reggetto in mare il Capitano di Fregata Emilio del Santo Comandante della Capitaneria di Porto Torras invita tutti i cittadini a segnalare immediatamente alla Guardia Costiera eventuali asportazioni dall'habitat marino di specie protette Diventa realtà e sospirato reintegro dei lavoratori del Policlinico L'accordo annunciato a fine maggio tra sindacati e regione per una ricollocazione dei dipendenti ospedalieri del Policlinico si è concretizzato ieri con l'emissione del bando che li riguarda Dopo che il Tribunale di Sassari aveva ufficializzato lo scorso gennaio il fallimento della struttura ospedaliera i dipendenti rischiavano di finire a spasso sine die privi di certezze sulla nuova proprietà che dovrebbe uscire dall'asta fallimentare prevista per il 31 luglio si temeva la procedura di licenziamento collettivo A salvare la situazione con una provvidenziale misura temporanea è stata appunto l'intesa trovata tra O di Sassari ATS e Sardegna Aspal con la pubblicazione di un bando per la realizzazione di un progetto sperimentale di politiche attive del lavoro indirizzato ai dipendenti del Policlinico sassarese chi possiede i requisiti specifici è a tempo per presentare la domanda fino al 26 luglio Trattandosi di una corsa contro il tempo invitiamo tutti se possibile a presentare quanto richiesto dalla TS e dalla U nel bando entro giovedì alle ore 13 perché i colloqui e l'effettivo inserimento nelle strutture pubbliche avverranno da lunedì mattina della prossima settimana E' la prima volta in Italia che il personale di una struttura privata ospedaliera con un accreditamento regionale usufruisce dell'ammortizzatore sociale delle politiche attive i dipendenti saranno impegnati e impiegati all'interno delle strutture ATS area socio-sanitaria e O con sede a Sassari con il compito fondamentale di abbattere le liste d'attesa l'incarico inizierà a decorrere dal 1 agosto sino al 31 dicembre di quest'anno salvo eventuali proroghe è da sottolineare secondo i sindacati CGL e Cisle Will la grande sensibilità mostrata dagli assessori regionali alla sanità a Nieddu e al lavoro a Zedda oltre alla Confindustria e al curatore fallimentare Ceresa nel sostenere il progetto i sindacati puntualizzano inoltre come l'impegno da parte di tutti gli enti coinvolti a mettere insieme le esigenze del territorio nel loro complesso sia stata la fonte del successo della presente iniziativa praticamente siamo riusciti a bloccare il licenziamento collettivo avviato dal curatore fallimentare e questo ci permette di mantenere in forza lavorativa attiva tutti i lavoratori del Policlinico in attesa della gara del fallimento per l'aggiudicazione del Policlinico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti